Quanto è importante questo successo nella rincorsa alla salvezza di Brescia? Beh sicuramente è una vittoria importantissima perché con questa vittoria arriviamo a 18 punti che è già comunque un buon punteggio in ottica salvezza, sicuramente per noi era fondamentale vincere qui oggi. Diciamo che nel primo tempo abbiamo un po' gettato le basi per la vittoria e nel secondo tempo senza nulla togliere l'avversario che tra il resto sono anche mio amico, ho giocato a Mestrino 3-4 mesi 2-3 stagioni fa, diciamo che ci siamo complicate la vita anche da sole quindi vinto di uno potevamo fare meglio e fare una partita anche più tranquilla. Obiettivi del Brescia? Diciamo che noi partiamo con l'obiettivo salvezza, però sognare non è proibito quindi personalmente io sogno di arrivare tra le prime otto per fare la Coppa Italia e penso che questo sia il sogno anche delle mie compagne. Per quanto riguarda il campionato sicuramente è un campionato a 14 squadre molto avvincente ad eccezione di Conversano, Salerno e a mio parere anche Estense Ferrara le altre squadre se la sono comunque giocata punto a punto in varie partite quindi gli equilibri sono molto vicini, le squadre hanno sempre da combattere per vincere ogni partita. Una sconfitta perché per come è andato il secondo tempo lascia tanto amaro in bocca forse se l'analizziamo a freddo lascia più amaro in bocca quel primo tempo. Sì, il primo tempo è stato un po' all'inizio traballante ma poi abbiamo cercato di recuperare con una difesa buona certo che se avessimo dato di più anche al primo tempo ce l'avremmo fatta più di così la squadra c'era e ci abbiamo creduto fino alla fine e penso che l'abbiamo dimostrato e spero che sia di nuovo l'inizio di ripartire con un piede giusto per la prossima partita. Il campionato è lungo, Mestrino ci crede ancora fino alla fine? Certo che ci crediamo fino alla fine, siamo una squadra che ha voglia tanto di vincere l'abbiamo dimostrato anche oggi, sebbene ci sono state un po' di incomprensione da parte però la squadra c'è, siamo forti, siamo un bel gruppo, ci aiutiamo e vedrete che ce la faremo a prendere questi tre punti pian pianino arriviamo, non riusciamo ancora però pian pianino ci arriviamo anche noi a vincere una partita e la squadra c'è la squadra c'è e tutto un cambiamento nuovo anche per noi e tutto aiuta quindi un po' alla volta ce la faremo a riprendere questi punti. Grazie